Tutti i ristoratori di Pesaro che si avevano chiuso avevano torto, leccavano il culo al potere, devono vergognarsi di aver chiuso, dovevano essere tutti aperti perché non c'è niente di male a mangiare. E' arrivato nel centro storico di Pesaro venerdì scorso alle 21.30 l'onorevole Vittorio Sgarbi che ha incontrato Umberto Carriera e altri esponenti del movimento IoApro per parlare del nuovo partito chiamato IoApro a Rinascimento con il quale vogliono presentarsi alle elezioni politiche della primavera 2023. Inevitabile inizio intervista è il commento sulla sentenza che ha annullato la multa alla chiusura della grande bellezza a Monbaroccio, uno dei ristoranti di Carriera nel quale a gennaio 2021 l'imprenditore ribelle organizzò una cena sfidando il DPCM del governo Conte che imponeva la chiusura dei locali alle ore 18. Avevamo ragione sul fatto che la chiusura era un errore grave di un governo criminale, di un prefetto poverino, non voglio giudicare, di un sindaco di Fano e di Pesaro che andrebbero fatti destituire. IoApro perché è nobile, perché se tu vuoi fare delle regole, le fai e dici c'è una fascia oraria da mezzogiorno alle 3 e una fascia oraria dalle 19, dalle 20 alle 23. Fine. Non è che tu dici chiuda alle 6, perché chiuda alle 6 è un ordine di un gruppo di deficienti, di incapaci e di sindaci peggio di loro che oggi hanno torto. Vengano a mettersi in ginocchio, a partire da Matteo Ricci, a scusarsi. Il signor, mio amico Ricci, era sicuro che è stato dalla parte della ragione. No, vorrei capire che ragione aveva. Era il legittimo chiudere, ha proseguito Sgarbi, che ha aggiunto non so se avremo la forza di candidare Umberto Carriera come premier, però prenderemo molti voti. Quindi ha fatto bene Carriera, vero leader, futuro sindaco di Pesaro, a dire io tengo aperto, perché era una cosa civile e tutte queste misure erano sbagliate, ma lo erano non in quanto misure sanitarie, in quanto misure di autoritarismo, non andare a sciare, ma che cazzo vuol dire andare a sciare, non andare in bicicletta, ma che cazzo sei. Ora, quando arrivano poi i vaccini, quando arrivano le medicine, uno le prende, uno le ho prese, non devo contestare, io ho mille malattie e mi fido dei medici, però non mi fido dei governanti che fanno i medici e neanche dei medici che fanno i governanti. Allora, Carriera è stato coraggioso, è diventato un simbolo, io apro, è un bellissimo nome, perché poi io apro vuol dire non solo io apro i ristoranti, ma io apro la vita, apro la novità, apro al tentativo di risolvere alcuni problemi. Il tempo è galantuomo, ha commentato invece Carriera, il tribunale ci ha dato ragione e intanto Sgarbi ha annunciato un'assemblea che faranno a Roma il prossimo 25 febbraio e poi a metà marzo l'incontro con gli altri leader. Perché Vittorio adesso c'è un buco nero tale, veramente, che le persone non sanno, cioè vanno a votare a cercare il meno peggio, invece noi vogliamo dare l'opzione, siamo persone che siamo partite dal basso, siamo imprenditori, la sera lavoriamo nelle nostre attività e non solo noi, tutti quelli che ci seguono sono persone che si fanno un mazzo tanto. Il primo obiettivo è riportare la gente al voto, i giovani al voto, perché la gente non va più a votare, l'ultima amministrativa il 52% di italiani non ha votato. Riportiamo le persone al voto e le persone sapranno scegliere chi ha combattuto e chi ha resistito negli ultimi due anni. C'è uno scollamento totale tra la politica e il popolo e quindi noi stiamo facendo da collante proprio perché la gente non crede più in politica. Dopo aver parlato di Boris Johnson, punito ha detto Sgarbi solo perché ha partecipato a una festa e della sindaca di Madrid che ha vinto proprio le elezioni perché, contrarie alle chiusure, ha ricordato quanto accadeva nella Repubblica di San Marino dove, a differenza dell'Italia, i ristoranti erano aperti. Lì, San Marino sono tutti pazzi, non mi pare che sia stata una pesta, non è che sono morti tutti. Poi la cosa che osservo da ultimo rispetto ai dati, ci sono stati molti morti, non abbiamo ancora capito di cosa sono morti, però ammettiamo che sono morti di Covid, anche adesso, i morti che c'erano prima del vaccino ci sono anche col vaccino, sono circa 300-400 morti al giorno. Allora è molto bizzarra questa cosa, c'è il computo dei morti, se fosse un vaccino che salva milioni di persone dovrebbe salvare anche quelli che invece muoiono esattamente come morivano prima del vaccino, per cui io mi fido dei vaccini, in generale la cura probabilmente funziona, però è anche vero che ho avuto un Covid senza vaccino e un Covid con vaccino, quindi non è che posso dire che è capitato che sia, quindi probabilmente l'epidemia sarebbe andata lentamente scemando, come va, indipendentemente dai medicinali, però uno che li vuole prendere li prende, uno che non li vuole prendere non li prende, non è che devi costringere a metterglielo come l'odio di ricino, ti metto in bocca e se non lo prendi non puoi andare a lavorare, non puoi andare in un negozio, non puoi andare alla parrucchiera, da che mondo è? Per cui la lotta continua, lotta continua!